Musica Dopo il primo arrivo della gestione Pasquale Foggia, nuovo direttore sportivo del Pescara che ha perfezionato l'acquisto di calciomercato portato avanti dall'ormai ex Daniele Delicarri cioè l'attaccante a Cursio Bentivegna, il Pescara si appresta a mettere a segno gli altri colpi che permetteranno al nuovo allenatore Silvio Baldini di avere a disposizione nel ritiro di Palena una rosa più completa. Il primo, quello che darebbe più tranquillità al tecnico toscano è l'ex Benevento e Lanciano Riccardo Improta, esterno offensivo di qualità, uomo capace di fare la fascia andrebbe a completare un reparto già solido dove oltre a Ferraris e Bentivegna, Meazzi e Tomassini se dovesse rimanere anche Improta ci sarebbe da stare più tranquilli con Cangiano, anche lui possibile acquisto il reparto più sguarnito però resta la difesa dove in arrivo il 34enne svincolato ex Benevento Alessandro Tuia che Pasquale Foggia ha già portato in passato a Benevento lo scorso anno alla Cremonese ma dopo gli addi di Milani, Mesic e adesso anche Pierno passato al campo basso serviranno almeno altri tre giocatori per puntellare la difesa già avviata in passato la trattativa con Andrea Cardi, ex Palermo e Virtus Francavilla che piace a Baldini e resta in piedi e può ancora andare in porto mentre dal Vicenza potrebbe arrivare De Col mentre per i centrali dal Catania potrebbe arrivare Marco Curado se andrà in porto la cessione ai siciliani di Merola Intanto Accurzio Bentivegna è stato ben contento di unirsi al gruppo e andare a sudare con gli altri sul campo di Palena Ciao ragazzi sono Accurzio Bentivegna, sono arrivato a Palena Ci vediamo allo stadio e forse a Pescara